Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale, oggi sono qui con questo nuovo video, breve video ragazzi per aggiornarvi in merito alle ultime informazioni sul DLC di GTA Online che finalmente arriverà il 15 dicembre, abbiamo la data d'uscita. Ragazzi vi ho già aggiornato su Instagram però faccio anche il video e mi raccomando seguitemi su Instagram perché non farò altri video aggiornamenti sul DLC ma vi aggiornerò esclusivamente su Instagram. Come detto prima ragazzi Rockstar Games ha finalmente ufficializzato la data ovvero il 15 dicembre quindi tra meno di un mese e ci ha rilasciato questo trailer che state guardando in questo momento. Dal trailer possiamo vedere questa nuova isola che sarà giunta in GTA Online ragazzi non nel single player ma in GTA Online e questo DLC che avrà come tema principale nuove rapine sarà dedicata proprio a quest'isola. Quest'isola si chiama Caio Perico è un nome che non mi è familiare ragazzi non è stato mai citata quest'isola nei precedenti Grand Theft Auto quindi è un'isola completamente nuova. Stiamo parlando di un'isola che appartiene al più grande narcotrafficante di droga al mondo quindi ragazzi le mie previsioni nel video di ieri erano giuste avevo previsto bene più o meno quella che era la trama di questo DLC. Quindi abbiamo quest'isola privata che appartiene a questo noto narcotrafficante di droga e noi dobbiamo sostanzialmente organizzare un colpo per rapinarlo. Dal trailer possiamo vedere un po' qualche immagine di quest'isola possiamo notare anche blindati nuovi veicoli nuovi questa villa che molto probabilmente appartiene al narcotrafficante e la nostra missione quindi è intrufolarci nell'isola rapinarla per poi tornare allo Santos. Rockstar ci dà anche delle informazioni su come saranno strutturati i colpi infatti dice sarai tu a dover decidere come entrare a Caio Perico una delle isole private più impenetrabili evita le guardie armate fino ai denti o neutralizzele e datele a gambe dopo aver arraffato del prezioso bottino oltre a opere d'arte oro o soldi sporchi. Prendine più che puoi. Scegli i tuoi strumenti, scegli il tuo approccio, scegli la tua squadra o cimentati nell'impresa da solo. L'importante è riuscire a tornare allo Santos tutti interi. Possiamo avere due strategie o una strategia più violenta quindi dove dobbiamo uccidere sostanzialmente tutti oppure quella ragazzi di evitare le guardie quindi un approccio un po' più stealth. Un po' come abbiamo visto anche con i vari approcci adottati per la rapina al casino. Andremo a rapinare questo narcotrafficante quindi rapineremo, ruberemo oro, soldi sporchi, opere d'arte e molto altro. Come abbiamo detto ragazzi è un'isola privata quindi ci saranno veramente tante guardie e penso sarà anche un po' più difficile entrare all'interno di quest'isola per cazzeggiare a meno che non abbiamo fatto il colpo. Poi non so ragazzi se sarà facilmente visitabile quest'isola oppure se diciamo ci andremo più spesso con i colpi anziché in freemode. Questo è da vedere però già il fatto che si tratta di un'isola privata con tante guardie questo secondo me ci renderà più complicato raggiungere quest'isola per cazzeggiare. La cosa bella ragazzi è che possiamo giocare anche da soli questi colpi quindi non per forza in compagnia anche se è molto più bello giocare ovviamente in compagnia con ad un massimo di altri tre giocatori quindi massimo quattro giocatori ragazzi per fare questi colpi. Sarà inoltre possibile entrare in possesso di nuovi veicoli e armi, visitare luoghi di aggregazione sociale per ballare e fare festa con gli amici. E questo molto probabilmente è il motivo per cui esiste il cantiere sul casino quindi ragazzi nuove stanze una nuova sala da ballo per esempio all'interno del casino. Incontrare nuovi celebrissimi dj quindi ci saranno nuovi dj all'interno di gt online un po' come abbiamo visto con il dlc del nightclub. E ascoltare nuove stazioni radio con oltre 100 nuove canzoni e non dimentichiamoci dell'enorme e versatile sottomarina armato che fungerà da quartier generale del colpo insieme a tante altre sorprese. Quindi ragazzi la possibilità di comprare questo grosso sottomarino è il più grande mai creato in gt online e ragazzi sarà da lì che andremo a gestire i colpi quindi non sarà dal diciamo dal dal casino ma dovremo molto probabilmente acquistare obbligatoriamente questo sottomarino per poter fare questi colpi. Non oso immaginare il prezzo ragazzi sarà qualcosa di stratosferico. E niente ragazzi queste sono le informazioni che Rockstar Games ci ha rilasciato fatemi sapere la vostra nei commenti continuate a seguirmi e soprattutto seguitemi su instagram per ulteriori novità o accorgimenti noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.